Roma, perotti titolari. Nella Lazio torna Luisa Alberto dopo aver saltato il Celtic 25 ottobre, 8.32, Milano finita la tre giorni di coppe, già ci si rituffa nel, campionato, che poi vivrà pure il turno infrasettimanale, destinato a condizionare le scelte di diversi allenatori. La nona giornata è scattata con Verona Sassuolo, poi un sabato con le prime due della classe e l'esordio di Tiago Motta sulla panchina del Genoa. Chiudono Roma Milan e Fiorentina Lazio. Lecce Juventus, sabato, ore 15 Lecce Meccariello leggermente favorito su Rispoli a destra. Il diffidato Maier destinato alla panchina, mentre al fianco di Babacar dovrebbe toccare a Farias più che a Falco. Juventus ancora a Utremsi e Douglas Costa, ci sarà, Bernardeschi dietro a Dybala e Higuain. Cristiano Ronaldo non convocato. A centrocampo ballottaggio tra Bentancur e Demre Can, mentre Matuidi dovrebbe spedire ancora una volta Rabiot in panchina. La novità in difesa è De Miral dal primo. Danilo dovrebbe far rifiatare Quadrado. Inter Parma, sabato, ore 18 Inter reduce dal match di Champions e impegnata poi nell'anticipo del turno, infrasettimanale, martedì a Brescia, l'Inter potrebbe fare un turnover live. Non recuperano D'Ambrosio e Sensi. Conte concederà un turno di riposo a De Vrij, acciaccato dopo il match con Borussia. Al suo posto è pronto Bastoni, con Goudin centrale e Skrini era destra. Sulla sinistra ancora Viraghi, il grosso dubbio è piuttosto davanti, il ballottaggio serratissimo è, tra Lukaku ed Esposito. Parma già senza Alvis e inglese, da versa perde anche Cornelius. Dietro tocca a Gagliolo, davanti l'ex Caramo in vantaggio su Sprocati per completare, il tridente con gli imprescindibili Kolusevski e Gervinio. In mezzo al campo ci saranno Kuczka, Scozzarella e Barilla, in leggero vantaggio su Hernani. Genoa-Brescia, sabato, ore 20,45 Genoa-Motta, recupera Romero e Biraschi, out a Parma per squalifica, e dovrebbe puntare sul 4-3-3 con Barreca a sinistra, stop dell'ultima ora per Pajac, per l'infortunato Criscito e Ghiglione, a destra. Nel tridente offensivo, Kwame e Pandefa ai fianchi di Pinamonti. Brescia perso De Sena, dovrebbe abbassarsi Romulo, con Schupalek trequartista. Sempre out Torregrossa, possibile panchina per Donnarumma. Davanti altra chance dal primo per Aie, stavolta con Balotelli. Bologna-Samedoria, domenica, ore 12,30 Bologna-destro starà fuori sino a metà novembre, Palacio centravanti e Sansone largo a sinistra. Sempre out Tomija su Emedel, non ci sarà nemmeno Deix, Bani al fianco di Danilo in mezzo alla difesa. In mediana fiducia a Svamberi. Samedoria Ranieri potrebbe confermare, l'undici che ha fermato la Roma. Dubbi sul partner di Quagliarella, con Gabbiadini in vantaggio su Bonazzoli. In mezzo, più Bertolacci di Ekdal, a sinistra c'è Jankto. Atalanta-Udinese, domenica, ore 15 Atalanta-Muriel di nuovo titolare con Ilicic più di Gomez, anche se il Papu oggi si è allenato regolarmente in gruppo e ha smaltito gli acciacchi, di Manchester. Sulla trequarti Malinowski. Hatebur si candida a destra, con Pascialic che potrebbe mandare in panchina Froiler. In difesa la novità potrebbe essere Castagne nei tre, insieme, a Toloi e Jim City. Udinese-Tudor conferma le due punte, con lasagna favorito su Nestorovski. O poco in ballottaggio con Terafest sulla destra. Fofana ancora in panchina. Spal Napoli, domenica, ore 15 Spal di Francesco non recupera, Floccari favorito per affiancare Petagna. Rientra strefezza dopo la squalifica, giocherà a destra al posto di Sala. Sulla sinistra c'è Reca. Missiroli in vantaggio su Murgia a centrocampo. Napoli probabile turnover dopo la Champions, con Milik di nuovo titolare e in signa a sinistra. Zilinski dovrebbe far rifiatare Helen. Difficile, il recupero di Mario Rui e Golaam, quindi di Lorenzo ancora a sinistra e Malqui a destra. Manu lascia anche a Ferrara per il problema al costato che, gli rende difficile la respirazione, conferma per Luperto. Torino-Cagliari, domenica, ore 15 Torino-Mazzarri valuta l'ipotesi tridente, con Iago e Verdi ai lati di Bellotti. A quel punto panchina, per Lukic. In difesa ballottaggio tra Gigi e Izzo, col primo leggermente favorito. Sulla fascia dei Silvestri potrebbe spuntarla sull'Axal. Cagliari Maran perde Nandese e cambia anche, in difesa, Pisacane si sposta a destra nei quattro, Clavan fa coppia in mezzo con Cepitelli. A centrocampo, spazio per Ioniza con Cigarini e uno tra Rog, favorito. E Castro. L'attacco Roma-Milan, domenica, ore 18 Roma-Ander recupera per la panchina, Mkhitaryan no e nel frattempo si ferma anche Santon. Con gli altri lungodegenti e la squalifica di, Klaivert, la coperta è corta non solo a centrocampo, dove l'unico di ruolo Everettù, probabile venga adattato al suo fianco pastore, a meno che Fonseca non schieri, Mancini in mediana rilanciando Fazio in difesa. Nei tre dietro a Giacco ritorno dal primo di Perotti. Milan soliti dubbi in attacco, però Lio sembra favorito su Piontek. Con Cialanolu e l'intoccabile Suso ai suoi fianchi. Pioli dovrebbe puntare in regia ancora su Biglia, che è in vantaggio su Benazer. L'unica variazione rispetto al match call, Lecce sarà il rientro di Calabria, che era squalificato, al posto di Conti. Fiorentina-Lazio, domenica, ore 20,45 Fiorentina anche a Brescia-Montella ha insistito con Riberi e Chiesa, senza, un vero attaccante. Probabile che contro la Lazio venga confermato lo stesso 11. In panchina ora c'è anche Pedro. Lazio dopo l'Europa League, in difesa in Zaghi punta su, Luis Felipe, a Cerbi e Radu. Sulla destra ancora probabile panchina per Lazzari, in mezzo invece lei va qualche chance in più di parolo. In attacco spazio a Immobile, e corre a. L'argentino dovrebbe superare la concorrenza di Caisedo.Copyright. Riproduzione riservata. Let's block up. Iscriviti al nostro canale.